La sicurezza è sicuramente uno dei temi fondamentali per lo sviluppo che è positivo della marca commerciale Conad. Noi da sempre abbiamo anche a livello organizzativo e gestionale messo la sicurezza e il controllo della qualità al centro della politica di sviluppo dei nostri prodotti. Quindi abbiamo una struttura diretta che controlla presso i nostri fornitori e presso anche le autorità e collabora con le autorità di riferimento per garantire alla nostra marca di rispettare come è doveroso tutti i parametri. L'Italia come sappiamo tra l'altro è un paese dove la sicurezza alimentare a livello normativo e di verifica è sicuramente all'avanguardia. Questo d'altra parte però lo abbiamo visto anche oggi al convegno non deve impattare su una certa semplificazione del sistema che è tipico poi della nostra struttura burocratica del paese. La sicurezza ripeto deve rimanere al centro perché fa parte della reputazione ormai un terzo delle nostre vendite di Conad passa attraverso i nostri prodotti quindi garantire trasparenza ai nostri clienti e ai consumatori sui nostri prodotti è fondamentale perché passa il gioco della nostra faccia. Ci stiamo anche orientando poi nel futuro a integrarci a monte anche sul controllo dei fattori produttivi quindi non solo del fornitore ma anche delle stesse materie prime che vengono certificate e dichiarate andando a noi stessi a scegliere questi fattori e poi chiedendo all'industria di farne esclusivamente la trasformazione alimentare. Quindi ripeto sicurezza, qualità sicuramente il fattore è tutto questo non a scapito dei corretti prezzi che devono poi i prodotti rimunerare tutti i fattori. Dobbiamo, lo ribadisco, semplificare il percorso di controllo e di normativa perché sicuramente oggi abbiamo una numerica e anche una difficoltà nel districarsi tra le diverse autorità tra diversi controlli ma al di là di questo sicuramente vogliamo mantenere il presidio della sicurezza e della qualità al centro della marca commerciale soprattutto in Conad. All'estero, ripeto, sta prendendo riferimento da noi soprattutto sui prodotti di filiera sui prodotti di OPGP dove l'Italia è il paese dominante a livello internazionale sempre più vengono a chiedere a noi possibilità di essere una piattaforma per la distribuzione di questi prodotti quindi aiutare anche e soprattutto produttori italiani, piccole e medie imprese in particolare ad approcciare mercati internazionali. Su questo la garanzia della certificazione della qualità ci fa sì che come intermediario commerciale siamo garanzia noi stessi per i produttori italiani verso il futuro e verso l'estero.